Non si hanno ancora notizie da Haiti, non le ha neppure suor Maria Fogagnolo, direttrice dell'Istituto Don Bosco di Padova, che lì ha una sorella, suor Maria Angela, missionaria da oltre 40 anni nella Repubblica Domenicana. Da ieri la direttrice dell'Istituto Don Bosco di Padova cerca inutilmente di mettersi in contatto con la sorella, con la quale comunica settimanalmente via mail. Anche nel sito nazionale delle Salesiane di Don Bosco, figlia di Maria Ausiliatrice, si legge che l'Istituzione sta cercando di avere notizie tramite la farnesina e appena le avrà le comunicherà tempestivamente online. La paura però è tanta, oltre al velo di tristezza che traspare dal volto di suor Maria, che conosce bene le reali condizioni della zona colpita dal terremoto, già provata da malattie e dalla miseria più assoluta. Sul posto, assieme alla sorella suor Maria Angela, ci sono altre quattro suore venete, mentre la maggior parte delle missionarie che lavora negli istituti fondati dalle Salesiane sono persone del posto, in tutto un'ottantina di religiose che gestiscono 14 istituti, che offrono istruzione e cibo ai bambini, dalle elementari al liceo, istituti che ospitano in media 2000 studenti. Bambini che arrivano alle 6 del mattino nell'istituto senza aver toccato cibo. È successo più di una volta, racconta suor Maria, che sua sorella abbia trovato dei suoi piccoli alunni morti per la fame. L'isola non appartiene alla gente, appartiene a pochi, non sempre ai tiani, ma di stati potenti che privano la gente del cibo, proprio parlo del cibo e dell'acqua. Mia sorella, che sta lavorando da 7 anni per aprire una nuova missione in una zona tra le più poverissime, ha l'acqua a 10 km di distanza. Eppure suor Maria non si perde d'animo, in attesa di avere notizie della sorella, rilancia la raccolta fondi, l'adozione a distanza dei bambini di Haiti, che sta portando avanti da anni con la scuola e con privati e amici. Io ho detto che continuerò finché avrò forze, finché avrò vita. Per il momento sono 300 circa i bambini che aiuto a distanza, naturalmente con l'offerta di tante persone generose.